Napoli, San Giovanni a Teduccio, Pina Scala da 19 anni e suo marito Mauro da 30 sono due dei 320 lavoratori dello stabilimento Wirpulo di Via Argine, ora in chiusura. È lì che si sono conosciuti prima di sposarsi. Le lettere sabato mattina. Sabato mattina erano le otto e mezza, prestissimo. Una bussata di citofono. Subito scattai perché alla fine già sapevo che stavano arrivando. Io scesi giù ed era la mia lettera di licenziamento. Mi diede anche quella di mio marito. È stata una botta al cuore. È finito un percorso della mia vita perché abbiamo chiuso una storia, un capitolo. Io in fabbrica andavo da quando ero piccola. Qui hanno lavorato suo padre, suo suocero, uno zio e un cugino. Questa è la nostra ultima dimisa. Io ancora non ho buttato niente. Ora devo togliere tutto da mezzo. Certo, ti fa male pure vederla e non indossarla più. Perché comunque è un marchio che ci ha fatto crescere, ci ha fatto realizzare nella vita. Perché ci siamo sposati. Abbiamo realizzato una casa. Abbiamo figli ragazzi da crescere. E vogliamo dargli un futuro. E anche loro comunque pensano a dire Mamma, mi devo scrivere all'università. Ma poi ce la faremo. Perché noi ce la dobbiamo fare. Perché non dobbiamo abbandonare il nostro territorio. Qual è la cosa che fa più male di tutta questa vicenda? Io devo dire che sono disoccupata. E ti fa male. E non sapere il futuro.